Suono della prima campanella al De Cecco di Pescara. Questa mattina, professoressa Di Pietro, sono entrate le prime classi. È stata una bella cerimonia anche alla presenza delle autorità comunali. Insomma, si parte, si parte con grande ottimismo quest'anno. Partiamo con ottimismo, partiamo con entusiasmo. Abbiamo accolto questa mattina le matricole delle nostre dieci classi prime e i loro genitori. È stata un'accoglienza festosa perché recuperiamo, dopo un periodo così particolare, quello della pandemia, recuperiamo nella sua pienezza l'azione educativa. E quindi rilanciamo a pieno regime le attività d'aula, le attività laboratoriali, le attività esperenziali. Ed siamo stati onorati e molto lieti di aver avuto con noi tante e importanti le massime istituzioni. Perché è stata l'occasione per dire ai nostri ragazzi ricominciamo con grinta, lavoriamo sodo e costruiamo al meglio il nostro futuro. Avete consolidato le iscrizioni che c'erano state lo scorso anno. Dunque, l'alberghiero De Cecco resta sempre un'eccellenza nella nostra regione, non solo per quanto riguarda proprio questo tipo di istituto. Noi siamo il più grande istituto alberghiero e turistico d'Abruzzo. In un periodo di crisi della denatalità, noi difendiamo e consolidiamo la nostra presenza nel territorio. Quest'anno abbiamo avuto un buon incremento, soprattutto nelle iscrizioni, per il convitto, che è parte integrante nel nostro istituto. Quindi accogliamo nel nostro istituto, attraverso il convitto, ragazzi che vengono anche da fuori regione, in particolare la Puglia e il Molise. Quindi ci confermiamo come un polo professionale e culturale solido e rilevante per il nostro territorio. Sul tema del Covid avete avuto già, diciamo, delle comunicazioni dal Ministero? Per il momento noi ci atteniamo alle indicazioni che ci sono state fornite. Confermiamo nelle nostre classi, anche se non richiesto dalle indicazioni ministeriali, la distanza dei banchi di oltre un metro. Lavoriamo moltissimo sulla reazione, nel senso che abbiamo già dato indicazioni di tenere sempre aperte le finestre. D'altronde i nostri laboratori sono, diciamo, aperti sul campus Sport e Gusto. Inoltre, in questa prima fase dell'anno, finché il tempo ce lo consentirà, noi utilizzeremo i nostri gazebo per delle lezioni all'aperto. Quindi cercheremo il più possibile di adottare delle misure preventive. E in ogni caso siamo pronti, laddove la situazione lo dovesse richiedere, ad interventi più rigorosi.